Almeno 70 persone, in gran parte donne e bambini della minoranza cristiana, hanno perso la vita in un attentato suicida a Lahore nel Pakistan centrale, mentre celebravano la Pasqua in un parco pubblico. L'attacco, rivendicato da una fazione dei talebane, è avvenuto in un'area residenziale della città, che al momento dell'esplosione era affollata di famiglie. Il kamikaze si è fatto saltare in aria vicino una delle altalene utilizzate dai bambini. I feriti sono più di 300, molti sono stati trasportati negli ospedali a bordo di taxi e risho che si trovavano vicino all'ingresso del parco Gulshanekbal. Il governo pakistano ha dispiegato alcuni reparti dell'esercito per facilitare le operazioni di soccorso. Le autorità hanno anche disposto la chiusura di tutti i parchi pubblici e decretato tre giorni di lutto nella provincia di Lahore.